Paolo Marra, cabarettista, presentatore e chi più ne ha più ne metta. Il giorno 21 settembre sarai uno dei protagonisti dell'amichevole di calcio tra sindaci della provincia di Vibo Valenza, artisti e professionisti organizzata per i 30 anni dell'Avis provinciale di Vibo. Correvoce che avrai un ruolo fondamentale in questo incontro di calcio. Sì, bene, allora ho accettato questo invito davvero con piacere, invito che mi è stato fatto dal regista Enzo Carone. Che ringrazio per aver pensato a me per questo importante evento. Ci sarà questo incontro di calcio tra la squadra dei sindaci della provincia di Vibo, come dicevi tu, e una squadra di artisti e professionisti galabresi. Lo scopo è molto importante per la donazione, è un gesto importantissimo che può salvare vite umane, quindi invitiamo tutti a donare il sangue. Io non lo posso dare, perché ho un diabete, ho un po' di ucce, forse comunque. Vediamo se si può, come dire, zuccherare. Per quanto riguarda il mio ruolo, molti mi chiedono, dicono, sì, ma tu giochi in questa partita, che ruolo giochi? Ma quale ruolo? Io faccio un pallone. Per quanto riguarda il mio ruolo, molti mi chiedono.